Per frenare le sempre più numerose trasgressioni al traffico stradale, in Olanda hanno escogitato questo eccellente mezzo. Con pulsante, due macchine fotografiche flash entrano in azione. Una include la strada e il tachimetro, con data. L'altra è per i dettagli. Vediamoli in azione. Doppio sospasso, proibito. Ecco la foto che ha fissato l'evidente trasgressione, con relativo giorno, mese e anno. L'altro obiettivo ha ripreso il dettaglio della targa. Preso tra due fuochi fotografici, il colpevole tace e ha consente a pagare. Nei Bassi Pirenei, in Francia, l'hanno studiata una diversa. Gli agenti stanno appostati. Il trasgressore viene immediatamente fermato dai flick. Si apre un immediato processo in un tribunale costituito seduta stante in aperta campagna. Lo presiede il prefetto. Il colpevole ha diritto di spiegare le sue ragioni e di difendersi. Ritirate parecchie patenti di guida. Dicono che per le strade dei Bassi Pirenei il traffico si svolga ora in un clima idilliaco.